Mi hanno detto che non si può rientrare perché ci sono stati dei problemi tra le comunicazioni terrestre e quelle qua su Gioffi Mi hanno detto che va tutto bene e che tra poco potrò ripartire e sfrecciare nel mio spazio per poterti riabbracciare Ma sono un soldato che obbedisce e non capisce sono un esploratore e ho studiato da avviatore Mi hanno detto che stanno tutti bene e che potranno ancora sopportare tutto in caso nucleare e quello che è uscito dal mare Ma sono un soldato che ha obbedito ed ha capito che non è servito non è servito Sai Tra polvere di terra e ferro e che non è servito Non è servito Non è servito sta perdendo il signore Non è servito 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 arni